I parrucchieri provano a darci un taglio. Da lunedì prossimo si riapre il 18 e la data cerchiata in verde per rialzare le sarro cinesche in tutta Italia. A Salerno i coaffer si stanno attrezzando per sanificare gli ambienti e garantire la massima sicurezza a cliente e personale che opera nei saloni. E c'è chi come Lello Fortunato ha provato ad anticipare addirittura il protocollo e le linee guida del governo attrezzando il suo negozio, come dice, come una sorta di sala operatoria con tanto di parafiato, segnaletica per i clienti e gran parte delle attrezzature in monouso, sia nel salone sia nel centro estetico. Inevitabilmente le restrizioni per la fase 2 del coronavirus comportano comunque una riduzione del numero di posti ed anche dello stesso personale. Da lunedì si lavora solo per appuntamento e sarà di fatto abolita la sala di attesa. Siamo organizzati quasi come una sala operatoria. Premesso che il protocollo non è ancora arrivato, quindi non hanno ancora comunicato, noi ci siamo organizzati un po' da autodidatti, nel senso che abbiamo predisposto tutta una serie di dispositivi di sicurezza, che tra le altre cose noi già avevamo, dall'aspirazione e sanificazione dell'aria, ai parafiato, che non dovrebbero essere previsti, però ovviamente li abbiamo fatti fare perché se poi venerdì ci dicono che è previsto il parafiato, in due giorni vi lascio immaginare. Quindi tutta una serie di spese che io e altri colleghi veramente proprio in questo momento non dovevamo affrontare. Quindi come si dice, sul cotto l'acqua bollita. Ci siamo organizzati come potete vedere, un posto sì e un posto no. Noi abbiamo 28 postazioni, quindi ne diventano 14, 5 lavaggi, abbiamo anche una saletta a parte. Quindi per quanto ci riguarda, ma un po' tutti gli altri colleghi faranno così, un posto sì e un posto no. Le persone sarà una persona per cliente, quindi un operatore per clienti, quindi rispetteremo la sicurezza al massimo. Noi già lavoravamo per appuntamento, quindi ovviamente adesso dovremmo evitare l'attesa, quindi ridimensioneremo. Il lavoro sarà dimezzato e quindi attesa non ce ne sarà. Anche se noi abbiamo due divani a distanza di 6 metri uno dall'altro, quindi potrebbe esserci una persona da una parte e una persona dall'altra parte. Sì, di sanificazione, ma noi faremo l'estrazione dell'aria. A parte che noi abbiamo finestre dappertutto, abbiamo otto finestre, da finestre e balconi, quindi il problema è del riciclo dell'aria. Abbiamo fatto fare ovviamente la sanificazione e ogni sera comunque abbiamo un dispositivo che va spruzzato in tutti gli aspiratori di modo da rendere ancora più sicuro il tutto. Sterilizza spazzole, è praticamente una sterilizzazione da sala operatoria. La stessa cosa per le spazzole, vengono pulite e imbustate, sterilizzate e imbustate. Quindi dal punto di vista della sicurezza, ma siamo noi in primis a voler essere sicuri per non far succedere qualche cosa che poi ci bloccherebbe totalmente. Quindi sicurezza massima per i clienti, quindi devono stare tranquilli. Ma questo non solo da parte nostra. Io sento un sacco di colleghi, di amici colleghi che ci siamo organizzati. Anche senza avere un protocollo faremo sicuramente di più. Anche i parafiato alla cassa che non sono previsti. Se non li abbiamo fatti perché pur da caso venerdì ci dicono che li dovete mettere, li abbiamo già. Quindi davanti alla postazione delle mani, dell'estetica. Quindi sicurezza totale sotto tutti gli aspetti.